Il narratore, il mio Leonardo, è un personaggio a tutti gli effetti. Rappresenta la voce della mente e della coscienza di Leonardo. Dove si affaccia la tua anima? Cosa cerchi, Leonardo? Dialoga con il genio. Cerca di entrare nelle pieghe dei suoi moti mentali per comprenderli e rivelarli. Sei sempre stato profondamente affascinato dal corpo umano. Vuole raccontare l'anima più che altro, quello che quest'uomo ha riuscito a dare con le sue emozioni e le sue sensazioni. Ho parlato con Francesco e l'ho detto, non è un narratore tradizionale, ma è piuttosto un altro personaggio. È bello, è emotivo, scaturiscono delle emozioni molto forti in queste parole. Penitenza, mortificazione, espiazione.